Bene, ora abbiamo gli interventi sui vicepresidenti, sulle relazioni. Le relazioni le avete ricevute tutti e quindi bene o male penso le abbiate già lette, comprese e sappiate più o meno cosa stanno facendo i nostri vicepresidenti. In funzione di questo abbiamo pensato di non far ripetere le relazioni, anche perché bene o male cosa stanno facendo. Abbiamo ampie relazioni, come diceva il Presidente ieri, sono state inviate settimanalmente a tutti gli associati, ai dirigenti. Quindi più o meno cosa succede in FIEP lo sappiamo, però abbiamo qui loro direttamente per potergli porre un quesito diretto e quindi la domanda può venire direttamente da uno dei partecipanti. Io inizierei per dovere, visto che è l'unica rappresentante femminile tra le vicepresidenze, chiederei a Sabrina Cancellieri, che chiaramente si occupa di formazione ma anche di tutto quello che è FIEP donna, se ci spiega proprio questa esperienza, questa nuova forma, che poi comunque sappiamo gli agenti immobiliari prevalentemente sono donna, anche se poi in federazione abbiamo la maggioranza di maschi, come possiamo vedere su questo palco. Però volevo che Sabrina ci parlasse di questo discorso di FIEP donna e questo club. Buongiorno a tutti, FIEP donna è stata una mia idea, è nata sei anni fa in occasione del mio primo mandato, poi diciamo che durante il primo mandato abbiamo avuto altro lavoro da svolgere, e quindi l'abbiamo ripresa due anni fa, un anno e mezzo fa. Perché cos'è nato questo progetto, questa mia idea? È nata perché in federazione, a differenza di quello che dice Simone, e perché comunque attraverso una verifica fatta, le donne rappresentano circa il 30% dei nostri associati, quindi un numero, diciamo, nutrito. E pertanto il progetto appunto si pone come scopo quello di valorizzare, di sostenere l'imprenditoria femminile appunto anche in FIEP. Ci siamo appunto proposte di tutelare ed assistere sia le giovani donne che si apprestano a fare la professione di agente immobiliare, che si appresteranno a fare la professione di agente immobiliare, sia di tutelare e assistere le associate già iscritte, come attraverso chiaramente la predisposizione di nuovi progetti, atti a riqualificare, innovare, a internazionalizzare le loro imprese. Perché abbiamo inserito internazionalizzazione? Perché i progetti sull'imprenditoria femminile puntano molto all'internazionalizzazione delle attività. E pertanto, avendo anche noi la possibilità di andare in questa direzione, diciamo che l'abbiamo preso un po' come nostro cavallo di battaglia per intraprendere appunto questo progetto. Che cosa è stato fatto fino ad oggi? Vedo che ci sono numerose colleghe in sala, quindi vi invito magari anche ad andare nel sito FIAPE, dove noi abbiamo già inserito un banner. Innanzitutto, non sono sola in questo progetto, lo sto portando avanti a livello nazionale con una delegata nazionale che è nominata dal Consiglio nazionale, che è la collega Susanna Marusic, che vorrei ringraziare per l'apporto che mi sta dando in questo progetto. Che cosa stiamo facendo? In questa fase, praticamente, dopo aver inviato a tutte le associate un questionario che ci serviva appunto per fare un po' un punto della situazione su quella che era la situazione delle nostre associate a livello di società e a livello di disponibilità anche nel mettersi in gioco in questa nuova attività, abbiamo redatto un regolamento appunto per normare questa nuova attività, perché FED, così l'abbiamo denominata, FIAPE Donna, FED è un comitato di FIAPE, e quindi è unito strettamente a FIAPE. Infatti, attraverso questo comitato, noi vogliamo sia attirare anche nuove associate, e vi posso assicurare che durante questo percorso, questo breve percorso che abbiamo fatto, io e Susanna, da quando appunto abbiamo istituito il sito e una mail dedicata, riceviamo numerose richieste da parte di non associate interessate a tale progetto. Adesso cosa stiamo facendo in questa fase, chiaramente? Vorremmo costruire una rete sul territorio, perché chiaramente come FIAPE e come i comitati per l'imprenditoria femminile sono presenti in tutte le realtà provinciali, così anche noi vogliamo a cascata chiaramente ricoprire tutti i vari ambiti. Si sono già costituiti i primi comitati, il primo comitato provinciale costituito è quello di Siena, quindi un applauso per questo nuovo comitato, e poi si sono costituiti tutti i comitati provinciali del FIULI Venezia Giulia, dove hanno costituito anche il primo comitato regionale, quindi abbiamo già un comitato regionale dei comitati provinciali. Chiaramente abbiamo predisposto appunto questo regolamento che regola appunto la costituzione di tutti i comitati in FIAPE, e il lavoro da svolgere ora e poi sarà quello appunto da parte dei comitati di presentarsi alle istituzioni, di prendere contatti con i comitati provinciali per l'imprenditoria femminile a livello territoriale, e quindi questo meccanismo ci permette comunque di far conoscere la nostra federazione in tutte le varie realtà. E quindi è pubblicità ancora per la nostra federazione chiaramente, è un veicolo appunto sia per vericolare la nostra politica a tutti i livelli. E' per questo appunto che è strettamente connesso appunto anche a FIAPE. Non so, sono troppo lunga, eh? Ovviamente... Ci sarebbe tanto da dire, da aggiungere chiaramente. Questa è la parte in cui magari ci sono le domande sulle relazioni, quindi se qualcuno ha da porre una domanda... Sì? Buongiorno, sono Elisabetta Algeri, Collegio di Firenze. Buongiorno. Intanto la volevo ringraziare per il progetto perché sinceramente è una cosa che è interessante, bella e visto che siamo solo il 30%, direi anche, spero, propedeutica a un aumento di noi signore all'interno della federazione. Visto che siamo a parlare proprio di noi signore, scostandomi un attimo dall'argomento, le volevo chiedere una sua opinione da unico vicepresidente donna all'interno della federazione, una sua opinione sulla nostra figura femminile. E mi passino i colleghi uomini, chissà, una figura di presidente femminile, un giorno. Sabrina, se vuoi rispondere, poi passiamo agli altri. La mia esperienza è sicuramente molto interessante, anche se sono l'unica fra tanti colleghi che comunque mi coccolano e mi vogliono bene, e questo sicuramente sì. E devo dire che tengono sempre in considerazione anche la mia opinione parimenti con i colleghi maschi, quindi questo ci facciamo valere, anche se sono da sola ci facciamo valere, mi faccio valere per tutte voi. Sicuramente si può aprire anche con questa nuova attività l'opportunità per tante altre colleghe ad inserirsi anche nella dirigenza FIAIP e quindi perché no un domani avere anche una presidente donna, perché noi poi siamo più pratiche rispetto agli uomini. Quello sicuramente sì. Se decidiamo di fare, si fa. Ha ragione. Ha qualità. Permettetelo. Forse per certe cose. Ha ragione o c'è dubbio. Grazie mille. Bene, dopo Sabrina sentiamo velocemente da Bertelli, se Stefano Bertelli che è vicepresidente nazionale, diciamo padrone di casa anche lui perché è fiorentino e quindi qui siamo a Firenze, i primi vicepresidenti, prima le signore e poi colui che diciamo bene o male è stato anche presidente fiorentino, presidente toscano. Lui si sta occupando del contratto collettivo nazionale e se c'è qualcuno che vuole fargli un intervento, nel frattempo Stefano magari ci dice un po' quello che visto che c'è un nuovo contratto. Grazie Simone, ringrazio il mio precedente provinciale per avermi dato la parola. Allora io quando sono stato incaricato di seguire questo settore sicuramente tra i più sconosciuti, voglio dire, o il più sconosciuto all'interno di FIAPE, mi sono approcciato con molta umiltà e devo dire che l'esperienza che ho fatto in questi due anni, anche grazie all'accompagnamento di due amici, quale Mario Lavarra e Aurelio Amerio e il dottor Mussolini, che è il nuovo consulente di settore, che mi hanno accompagnato in questi anni, è stata veramente un'esperienza esaltante. Questo è uno strumento, purtroppo, poco conosciuto al nostro interno. Lo dicevo ieri a Mario Condò, lui, quell'indagine conoscitiva che ha fatto sul futuro della professione, in una parte evidenzia che circa 700 associati hanno dichiarato nel corso dell'indagine che hanno dei collaboratori al lavoro subordinato, praticamente hanno dei dipendenti. E questo è l'ulteriore dimostrazione di come il nostro contratto collettivo di lavoro, i primi a non conoscerlo, siamo noi. Noi all'ente bilaterale abbiamo iscritto circa 400 aderenti, non tutti sono FIAPE, e con 700 FIAPE che hanno dichiarato 20 giorni fa o un mese fa di avere dipendenti, c'è qualcosa che nella catena di informazione per quanto riguarda il nostro settore in questi anni, voglio dire, non ha funzionato, non siamo stati attrattivi per i nostri colleghi. Questo è un male. Chi di voi è andato a fare spesa sabato scorso nei supermercati, in alcune grandi catene di distribuzione, ha visto che i lavoratori erano in sciopero. noi fino a 21 anni fa eravamo legati a quel contratto, lo siamo stati in maniera minore fino a circa un mese fa, il 14 ottobre. Noi abbiamo rinnovato il contratto scaduto dal 2013 il 14 ottobre e ci siamo totalmente svincolati da quella che era l'area d'appartenenza del commercio che ci fu data quando Mario Lavarra stipulò il primo contratto collettivo di lavoro presso il Ministero del Lavoro nel 1991 e questo ci permette oggi a 25 anni di essere appena titolo maggiorenni. Tra l'altro abbiamo e quindi credo che abbiamo ottenuto un grande risultato e questo ci permette anche e lo dico a coloro che non per la loro inconsapevolezza ma per l'ignoranza mi sia passato questo termine dei nostri consulenti busta paga che paghiamo perché i primi a non conoscere il nostro contratto solo loro e quindi non ce lo fanno applicare. Abbiamo oggi un contratto competitivo anche da un punto di vista economico perché rispetto agli aumenti che il commercio ha dato e che danno i colleghi che applicano ancora quel contratto è inferiore di oltre 20 euro al mese. Noi abbiamo dato un aumento di 61 euro in tre anni decorrenza nell'ultimo trimestre nell'ultimo triennio scusate e questi 61 euro sono stati spalmati in quattro aumenti perché si concluderanno nel 2016. Quindi anche da un punto di vista economico e concorrenziale voglio dire il nostro contratto è un contratto migliore e attraverso uno strumento estremamente importante che io ho imparato a conoscere due anni fa e ad apprezzare la bilateralità noi abbiamo strumenti che possono commissioni che secondo il dettato della legge riconosciuto anche dall'ufficio territoriale del lavoro possano certificare i contratti d'apprendistato e visto che ieri è stato evocato più volte e nasarco abbiamo una commissione di certificazione e qui ci sono alcuni colleghi in sala che l'hanno adoperata che certifica i cosiddetti contratti di collaborazione atipica che sono quelli che noi possiamo istituire possiamo fare tra colleghi agenti immobiliari che lavorano nello stesso ufficio ma hanno due partite ive sono degli sono delle ditte indipendenti e questo ci può mettere a riparo da equivoci o da scivoloni che gli enti ispettivi potrebbero fare in qualche caso quindi io invito tutti i colleghi voglio dire a fare a prendere dieci minuti di tempo all'interno di una giornata lavorativa qualsiasi anche perché purtroppo ancora non è che il mercato sia ripartito e ci fa lavorare 24 ore su 24 ma soprattutto per i colleghi che hanno lavoratori dipendenti o lavoratori a rapporto subordinato a dare un'occhiata al nostro al nostro sito di recente realizzazione che è il sito dell'Ebnaip dell'ente bilaterale che da qualche da sei mesi ha anche una sede autonoma e una collaboratrice che si può interfacciare con chiunque perché ritengo che questo sia una delle tante tutele un po' più sconosciute che la federazione ha saputo costruire a servizio dei propri associati in questi anni ed è un peccato non usarlo bene allora passerei in questo caso al nostro tesore nazionale tesore nazionale magari se così c'è qualcuno vuol fargli una domanda diretta se no se velocemente ci dici come vanno le casse in due parole intanto non ti credo il cambio yen dollaro ma se ci dici un attimo se vuoi sono preparato anche su questo 1,48 intanto saluto tutti i presenti e chiaramente ringrazio per per questo momento indubbiamente molto importante quindi per la presenza di tutti voi che è molto massiva volevo anche aprire un po' il mio intervento ringraziando perché mi sembra doveroso i miei colleghi del comitato esecutivo e ne approfitto in particolar modo le vicepresidenze che con me questa mattina stanno un po' portando quelle che sono le esperienze soprattutto di quest'ultimo bienio perché i vicepresidenti perché chiaramente spesso da loro e anche da loro arrivano e cominciano quelle che sono tutte le idee propositive che poi raccolte dal comitato stesso chiaramente vengono perfezionate anche in una dinamica poi economica finanziaria che poi è indubbiamente l'argomento di mia aspettanza indubbiamente noi abbiamo iniziato un processo sei anni fa processo indubbiamente nuovo in un mondo che nel frattempo è cambiato purtroppo velocemente ha avuto delle evoluzioni ma ha avuto anche dei processi di involuzione e questo ha fatto sì che la federazione indubbiamente si trovasse pronta a questo cambiamento e quindi esercitare tutto quello che era di propria competenza indubbiamente mettere in campo delle idee che dovevano da una parte comunque salvaguardare i scopi principali della federazione stessa dall'altra indubbiamente creare tutti i propositi positivi per il futuro e quindi per quello che indubbiamente è il processo in corso devo dire che sotto questo profilo con molta razionalità e con una logica abbiamo fatto un bel intervento di compressione non abbiamo mai svilito però quelli che sono gli obiettivi federativi e con un processo di ricamo siamo riusciti a gestire devo dire molto bene quello che era il complesso finanziario economico non peraltro svilendo mai quelli che sono i presupposti che dal 2015 in modo particolare hanno visto anche un cambiamento sul territorio noi avevamo già iniziato un processo di decentramento che dura ormai già da qualche anno dal 2015 abbiamo voluto fare col territorio e quindi con i collegi e quindi con i dirigenti territoriali una bellissima scommessa al fine di poter anche creare tutte quelle dinamiche di una buona crescita che indubbiamente porterà dei risultati perché di questo ne siamo convinti da qui al prossimo futuro visto gli interventi che in modo molto radicale abbiamo portato sul territorio quindi un decentramento che è molto avanzato un decentramento che ha voluto anche dare più forza economica sul territorio e quindi creare tutti quegli obiettivi che i collegi indubbiamente spesso ci chiedono per rafforzare ciò che sono le loro esperienze e quindi dare quel tono maggiore poi agli associati che chiedono e giustamente pretendono dei servizi puntuali dalla federazione quindi tutto un processo che sta portando già dei risultati perché tanti collegi hanno già promosso molte iniziative e quindi cercando di toccare tutte le tematiche utili e cercando di aiutare e dare tutti gli strumenti più qualitativi ai nostri associati sul territorio stesso grazie c'era qualche domanda no benissimo passiamo avanti allora è la volta di Mario Condotto del Satriano che si sta occupando di più attività il centro studi e diciamo tutta quella parte che riguarda lo studio proprio delle norme e di tutte quelle che sono afferenti all'attività del centro immobiliare avete qualche quesito un particolare o sentiamo un paio di minuti di intervento non ci sono domande dirette prego due minuti buongiorno a tutti innanzitutto non l'avevo visto allora ci sono delle domande io mi sono girato due o tre volte ma non avevo visto la mano scusa Actis guarda c'è il microfono un attimo solo grazie è una domanda per Savoia che non abbiamo afferrato molto bene il concetto dei nuovi associati con questo sistema del teseramento nuovo molto easy ecco non abbiamo non abbiamo proprio afferrato il concetto di come si possa associare più facilmente qualcuno senza le procedure che ci sono oggi insomma se ho ben capito dovremmo essere volti verso questo tipo di direzione allora guarda è cominciata un'esperienza su quest'anno come dicevo prima di decentramento con un maggiore contributo economico sui collegi e questo indubbiamente per natura dovrebbe darci chiaramente e stiamo già analizzando i primi risultati dovrebbe darci una forte spinta in tal senso ne approfitto credo che poi sia argomento anche successivo avete letto le mail l'altro giorno è iniziato comunque il tesseramento 2016 sarà un tesseramento particolare perché peraltro per la prima volta la federazione si proietterà sul mercato non solo per chi è associato ma tutti coloro che sono iscritti nelle camere di commercio in questo momento quindi ci sarà una grossa spinta facendo capire e chiaramente dando tutti quegli strumenti con una postalizzazione mirata a tutti circa 32.000 iscritti delle camere di commercio è un'iniziativa nuova un'iniziativa che a nostro avviso darà indubbiamente dei risultati favorevoli ed ecco perché in premessa dicevo ci sono oggi in corso dei processi in un ultimo appunto questo che è una modalità diversa ma che ci darà dei presupposti interessanti perfetto Mario se vuoi riprendere c'erano delle altre domande prima non lo so non vedo nessun'altra domanda poi se mi sbaglio ci si ferma prego no colgo l'occasione innanzitutto per ringraziare chi ha collaborato con il centro studi noi siamo un centro studi lo sapete insomma ma solamente organizzato all'interno della federazione e l'attività svolta in particolar modo dall'avvocato Raffaella Friggeri e da Vincenzo Campo per la comunicazione e il coordinamento di Rosalba Mascaro e di Daniele Di Benedetti mi andava di 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 citarli perché sono veramente indispensabili così come è indispensabile anche il collega e amico e amico Gianluca Mezzetti anche se spesso abbiamo poi modo di di simpaticamente prenderci per per le problematiche informatiche che spesso ci mandano al manicomio l'ultima attività che abbiamo svolto con il centro studi è stata appunto questa indagine che presenteremo tra poco ma che parte in realtà dal supporto che diamo alla presidenza relativamente a quelli che sono anche di discorsi di carattere politico e essenzialmente il tutto è partito dallo studio del DDL concorrenza e quindi dai dai segnali che devo dire abbiamo colto immediatamente eh di questo DDL che era chiaramente contro le professioni e la nostra in particolare perché poi metteva addirittura in discorso del in discussione il discorso della terzietà attraverso la possibilità di dare alle banche o comunque a società di capitale di fare di costituire delle società di professionisti altra attività svolta dal 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 centro studi è ovviamente l'osservatorio anzi diciamo che già dalla settimana entrante ripartiamo con le rilevazioni anche quest'anno lo faremo in in partnership con Enea e con ICOM e questo è un po' un fiore all'occhiello perché dà grande importanza visto insomma anche l'importanza di Enea in particolare che insieme con FIAP ci dà la possibilità di essere presenti in tutte le istituzioni praticamente altra cosa che ricordo con particolare piacere è stato che quando a luglio scorso c'è stato da parte dell'antitrust una sanzione a tutte praticamente a tutti i gruppi immobiliari fatto eccezione di FIAP e se non ricordo male anche di FRIM relativamente alla modulistica beh insomma ci ha fatto piacere che la nostra modulistica e per amor di Dio mi rendo assolutamente conto che può essere lunga che può essere talvolta farraginosa ma nasce con l'esigenza di collimare tutte quelle che sono le necessità dei vari agenti immobiliari nazionali vi dico che insomma in ogni regione c'è un modus operandi diverso e quindi è difficile praticamente metterli insieme e far contenti tutti tra virgolette e dall'altro poi ci sono delle problematiche di carattere tecnico giuridico alle quali non possiamo che non possiamo non rispettare grazie per questo intervento e applausi grazie a voi se non ci sono domande bene passerei al vice presidente raffaele de demo si occupa di estere turistico mi hanno già chiesto di fare un intervento quindi c'è nicola pardini che voleva farti una domanda buongiorno nicola pardini di firenze sono un operatore nel settore delle locazioni turistiche intanto ringrazio raffaele de demo per la relazione per l'impegno e l'attività anche politica nel tavolo con il ministero del turismo per tentare ovviamente di comprendere meglio come modificare il titolo quinto della costituzione per avere una regolamentazione della legislazione delle locazioni turistiche in questi giorni sui giornali si legge che l'amministratore di airbnb ha incontrato la regione toscana anche il comune di firenze sostanzialmente per sollecitare il pagamento delle city tax e credo che e mi auspico che FIAIP abbia l'energia per poter anche incontrare le regioni ahimè sono molte ma purtroppo al momento è demandata a loro la gestione del turismo e mi domando che cosa si può fare di più su questo tema che è al momento per noi molto molto importante grazie buongiorno a tutti quindi ti rispondo Nicola allora quello che noi stiamo cercando di fare per l'appunto è quello di andare a sensibilizzare il problema del titolo quinto della costituzione che tutti voi bene conoscete purtroppo non si hanno lo stesso gli stessi parametri non sono applicabili su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda la locazione di tipo turistico questo perché come ben sappiamo le regioni interpretano in maniera differente la legislazione in materia addirittura in alcuni casi anche province o i comuni interpretano diversamente la cosa quindi il passo che noi avevamo cercato di fare a Lucca era quello di prendere base su un sistema di valutazione autonoma degli immobili quindi una sorta di autocertificazione io ho preso il progetto che era esistente in Veneto e l'ho applicato a livello nazionale perché questo possa essere il primo passo per dare comunque un parametro ai clienti ma non solo ai clienti anche a chi segue la legislazione in tal maniera e poter aprire un tavolo di lavoro come giusto hai detto prima col Ministero del Turismo perché è questo per comunque riuscire a avere una referenzialità che poi ci consenta a cascata di andare anche sulle regioni ad andare tra virgolette a trattare anche sui specifici chiedo scusa temi quindi io prendo anche spunto della domanda che mi hai fatto di cui ti ringrazio per sollecitare anche i delegati regionali ad aiutarmi in questo cioè aiutatemi ad aiutarvi prendete spunto della problematica che avete mandatemi delle relazioni e vediamo di intervenire su questo tra l'altro il settore turistico che io ho preso in mano due anni fa abbiamo cercato di farlo partire in una determinata maniera non avendo ottenuto i risultati auspicati abbiamo recentemente nominato come coadiutore il collega Osvaldo Grandin che è seduto lì che è già stato vicepresidente di settore che lavorerà con Mario nel centro studi turistico e che sicuramente sarà molto utile anche su questo per riuscire comunque a portare sempre avanti la nostra battaglia sempre tra virgolette per avere comunque le stesse condizioni su tutto il territorio nazionale e anche l'attenzione direttiva dei servizi che tu ben conosci che non consente di offrire a un cliente un servizio a 360 gradi e che quindi ci porta a essere penalizzati nel turismo quando ci troviamo ad essere la quinta nazione al mondo a livello di presenze internazionali dietro a altre nazioni che potrebbero avere numeri ben diversi e soprattutto in considerazione del fatto che al primo posto c'è a Francia che è qui vicino e che secondo me non abbiamo nulla da invidiare grazie mille buon lavoro giusto bene se non ci sono altri interventi altre domande direi di passare a Guerino Pucci abbiamo sentito prima l'intervento di Gesty ma meno male lui si sta occupando di questo e di altri settori c'è qualche domanda sulla sua relazione no allora un paio di minuti per si esporge buongiorno a tutti di Gesty non vi parlerò ne ha parlato ampiamente il presidente Massimo Bargiacchi col quale c'è un'ottima collaborazione e speriamo in futuro di mettere poi e concretizzare questo lavoro che è stato fatto fino adesso mi soffermerò su due aspetti della mia relazione chi l'ha chi l'ha letta che è il punto B e il punto C in tempi non sospetti risalgo al 2014 il primo anno dopo il congresso il primo anno di mia partecipazione al comitato esecutivo ho sentito così l'esigenza l'ho proposto al comitato ho avuto l'assenso di fare un sondaggio un sondaggio conoscitivo di gradimento sulla sulla politica della federazione e sui servizi sulla qualità dei servizi in cosa è consistito questo lavoro 600 colleghi sono stati intervistati telefonicamente la durata è stata 12-13 minuti circa ed è molto interessante il risultato che a tutti i consiglieri nazionali è stato inviato perché è stato presentato da me in un'occasione di un consiglio e rispetto anche alle riflessioni che stamattina ci venivano sollecitate potrebbe essere utile andarlo a rivedere e guardarselo i presidenti regionali e provinciali perché ci sono molti spunti interessanti cosa vuol dire spesso noi dirigenti tutti e faccio mea colpa ne parliamo tra di noi ma l'associato non lo andiamo a coinvolgere qui c'è recentissimo molto più aggiornata di quello che ho fatto io su altro argomento che poi vi presenterà Mario Condò nel 2015 sempre su questa onda è stato realizzato un documento sempre che a vostra disposizione basta fare una richiesta l'analisi densità associativa FIAIP cosa vuol dire in riferimento a quanto ci ha detto Paolo Papi degli iscritti alla Camera di Commercio gli attuali operativi agenti immobiliari nei vari territori il rapporto tra popolazione iscritti e quanti sono associati FIAIP e la ricaduta se vogliamo economica su quella che è la FIAIP in base al numero degli associati nelle varie regioni a livello regionale e non provinciale anche questo è a disposizione per chi lo volesse guardare volesse vederlo penso che possa essere utile per quelle che saranno le iniziative del prossimo futuro ultima considerazione sono componente da qualche anno della consulta interassociativa ne ha parlato il Presidente nazionale ieri ed è un lavoro molto faticoso credetemi perché confrontarsi con le altre associazioni che poco fanno altre associazioni della nostra categoria poco fanno è molto faticoso però ritengo che vada comunque seguito questo percorso perché è utile in alcune occasioni nel passato abbiamo dato molti risultati il fatto di creare delle sinergie con una soprattutto di queste due associazioni che ci ha portato ad ottenere aspetti che oggi ne godiamo perché avremmo visto un altro film se le cose fossero andate in modo diverso grazie per l'attenzione grazie grazie Guirino abbiamo Paolo Papi lui c'è qualcuno che ha una domanda diretta se no gli faccio sì una domanda lì guarda il signore nome e cognome non voglio il microfono voglio andare là va bene scusate ma differentemente dalla collega Tafuro io non ho nessuna timore reverenziale dell'assemblea mi dispiace solo che tanti associati siano andati via tanti dirigenti siano andati via l'argomento di Paolo Papi è forse l'argomento più importante di questa assemblea di metà bandato e quindi tanti che se ne sono andati per me evidentemente non hanno sul loro territorio il problema dell'abusivismo credo questo se permettete faccio io una domanda ovviamente come diceva qualcuno chi ha carattere ha un brutto carattere io ce l'ho bruttissimo e peggiora cortesemente i presidenti provinciali per favore alzano la mano la tengono alzata quelli che hanno denunciato il presidente della propria camera di commercio per omissione dati d'ufficio nessuno è compito precipuo del presidente e della camera di commercio di ogni città di verificare controllare e se possibile sanzionare o rivolgersi alla magistratura quando ci siano delle denunce nei confronti di operatori abusivi altra domanda quanti presidenti provinciali hanno fatto denuncia in camera di commercio di operatori abusivi uno due tre quattro cinque sei sette otto la quindicina mi lascia molto perplesso mi lascia perplesso che non ci sia un'indicazione precisa da parte del nazionale sui comportamenti che debbono tenere i presidenti provinciali nei confronti dei presidenti delle rispettive camere di commercio se fosse per me dovrebbe esserci l'obbligo assoluto da parte del nazionale di costringere ai presidenti provinciali di operare in questo senso prima la collega Tafuro ha fatto un altro riferimento ha detto le mamme danno da mangiare ai bambini però se i bambini non ciucciano io sono per l'alimentazione forzata sono per le flebo io non voglio lasciare morire un bambino sono per l'eutanasia perché sono vecchio ma il bambino deve vivere noi siamo il bambino quindi se in un certo in una certa epoca è passato il messaggio della formazione obbligatoria io ne sono il fautore probabilmente per una dimensione grande così ma da quando mi sono iscritto circa 25 anni fa che lo vado dicendo l'italiano medio e noi siamo italiani abbiamo bisogno di qualcuno diciamo che ci dica la strada e ci dia delle bacchettate se usciamo fuori di strada abbiamo bisogno delle bacchettate quindi come la formazione obbligatoria in determinati casi noi dobbiamo quasi obbligare chi si iscrive a fare un percorso formativo e a percorrere determinate strade non ultima non ultima quello di costringere le camere di commercio visto che esistono visto che continuano a esistere a fare il loro lavoro c'è una legge dello Stato che impone alle camere di commercio le commissioni d'esame per diventare agente immobiliare in questa legge dello Stato è previsto che nella commissione d'esame ci siano due esponenti delle due associazioni di categoria più rappresentative secondo voi è rispettata questa norma le hanno se le sono modificate per i cavoli loro siamo intervenuti noi per fare questa modifica l'abbiamo fatto quanti associati abbiamo che hanno nell'ambito del loro ufficio degli pseudo agenti immobiliari che non hanno l'iscrizione camerale quanti ne abbiamo io so che nella mia provincia ce n'è più di qualcuno ci vogliamo guardare addosso lascio la parola a Paolo Papio bene allora Paolo in pratica l'intervento ti chiede ma ieri l'argomento abusivi l'abbiamo affrontato bene a fondo o manca ancora qualcosa da dirci beh diciamo intanto ringrazio Ugo Torolla per il suo intervento ringrazio anche tutti gli amici colleghi che mi hanno aiutato in questa attività di questi anni grazie a loro se siamo riusciti comunque a ottenere alcuni risultati e soprattutto alcune informazioni essenziali ieri non abbiamo affrontato il problema dell'abusivismo diciamo dal verso giusto io ritengo che si doveva partire da tutta un'altra posizione una posizione che è quella dove gli italiani che vivono in uno stato di diritto e noi siamo italiani e siamo agenti immobiliari che tutte le mattine tiriamo sulla Sara Cinesca paghiamo l'imposta sulle insegne paghiamo l'imposta alla camera di commercio dove noi siamo iscritti dobbiamo prendere la patente per guidare un'automobile quindi ci sottoponiamo a delle regole ben precise e ieri di questo non si è parlato sono anche rimasto molto perplesso nel vedere che un presidente di camera di commercio ha lamentato il fatto che dopo essere stato eletto solo perché Renzi ha detto che le vuole chiudere si è messo in una situazione di rottamazione ma forse doveva farsi la domanda più logica se Renzi le vuole chiudere magari poteva chiedersi come mai le vuole chiudere e come mai l'articolo 2 della 580 viene praticamente dimenticato dalle camere di commercio le quali invocano un'autonomia ma l'autonomia interpretativa non può essere un'autonomia che dà il diritto a fare e a tirare le norme dalla parte che più fa comodo in Italia questo non può esistere la 580 non dice questo la 580 all'articolo 2 dice che le camere di commercio sono un regolatore del mercato e devono supportare la parola supportare la sintassi la conosciamo tutti significa aiutare le imprese e tutti colori quali sono iscritti nei registri di queste camere di commercio qual è il mio compito e il vostro compito vi invito a leggere la relazione la relazione non è autoreferenziale la relazione è semplicemente quello che si può ricavare quello che potrete ricavare per poter interagire con le vostre camere di commercio ci sono dei riferimenti normativi e qui devo ringraziare Raffaella Frigeri che mi ha dato una mano assolutamente preziosa nel non commettere errori e nell'analizzare tutti gli aspetti fondanti di queste norme che ci tutelano e ci difendono cari colleghi quindi l'appello di Ugo Torolla ai presidenti provinciali io lo faccio a tutti i dirigenti locali non abbiate paura di interloquire con le vostre camere non abbiate paura a chiamarmi qualora ci sono atteggiamenti scostanti addirittura di non affrontare di non affrontare gli argomenti perché noi abbiamo diritto fino a quando siamo dentro a quel benedetto registro in assenza del nostro vecchio caro ruolo che era identificativo abbiamo diritto ad essere tutelati concludo ringraziando pubblicamente il presidente provinciale di Torino che ha avuto un'iniziativa assolutamente encomiabile io vi chiedo due minuti lo vorrei invitare qui sul palco perché vi porterà un esempio di come si affronta l'abusivismo oggi in maniera istituzionale in maniera sinergico con Camera di Commercio e Comando della Polizia Municipale di Torino grazie a tutti grazie Aurelio Amerio presidente provinciale di Torino ho bisogno di tre minuti per affrontare tre fasi di quanto siamo riusciti a realizzare è solo praticamente l'altro ieri è arrivato l'ultimo logo su questo protocollo d'intesa che abbiamo varato a Torino con l'obiettivo di allargarlo al resto della regione e poi se possibile sul resto del territorio nazionale con le altre regioni individuazione del problema facciamo le denunce alla Camera di Commercio e ci torno delle risposte molte volte evasive o non ritorno delle risposte esemplificazione del caso facciamo una denuncia non c'è risposta la sollecitiamo dopo un po' arriva la Polizia Amministrativa non ha rilevato nessuna infrazione a carico del soggetto che ci avete segnalato con fotografie cartelli e via discorrendo noi non possiamo fare niente fase 2 vado dalla Polizia Amministrativa che nel nostro caso è la sezione appunto della Polizia Amministrativa dei Vigili del Comando dei Vigili Urbani della nostra città gli spiego la situazione ho la fortuna di parlare con un dirigente saggio e consapevole e dice ma sa noi andiamo a fare gli accertamenti ma poi alla fine non sappiamo bene cosa cercare seconda fase il compito di FIAIP di facilitare questo problema di contatto tra Camere di Commercio e la Polizia Amministrativa ci inventiamo di statuire un protocollo di intesa con la Polizia per dirgli che cosa devono fare quando vanno a fare gli accertamenti al che interviene per quanto riguarda Torino il dottor Belilante appunto della Polizia Amministrativa che segue i corsi di formazione per i vigili che vanno a fare gli accertamenti e a grandi linee abbozziamo un accordo per uno scambio di docenze noi nei loro corsi e con l'esperienza dell'ente bilaterale che seguo per FIAIP gli offriamo la bilateralità di questo discorso cioè noi veniamo da voi ma voi venite da noi condiamo il tutto con la sottoscrizione anche della Camere di Commercio e adesso l'accordo che parte e ve lo do in anteprima perché sarà effettuata la conferenza stampa di presentazione a Torino appunto nella sede dei vigili urbani prevede primo FIAIP capofila dell'organizzazione con la precisazione che se entreranno altre categorie altre associazioni di categorie dovranno da noi essere autorizzate perché poi sappiamo che sul carro che funziona tutti vogliono salire due i vigili urbani riceveranno da noi la formazione preliminare nei loro corsi quando parleranno di accertamenti in questo settore dove noi vogliamo spiegare che soprattutto non devono andare a verificare chi ha già la sua insegna paga già le sue tasse e via discorrendo ma andare soprattutto da quelli che sono completamente al di fuori della cosa e facilitazione dei rapporti tra Camera di Commercio e autorità accertative del caso perciò dovrebbe essere finalmente la situazione ideale per poter non fare più quello scaricabarile che le Camere di Commercio almeno a Torino anche con la buona volontà non riuscivano a realizzare questo è il quanto quando sarà ufficializzato perché ho ricevuto l'autorizzazione da parte del Comando di Torino di parlarne già oggi però prima vogliono fare una conferenza stampa congiunta per annunciare l'accordo e lo gireremo ovviamente a tutti gli altri colleghi delle altre province delle altre regioni per cercare di duplicare questo accordo grazie bene allora ringraziamo i vicepresidenti per il loro intervento per gli interventi